Ciao, oggi vi voglio far vedere due pacchettini che mi sono stati gentilmente inviati da due aziende, ci tengo a precisare che ho chiesto io di poter collaborare con loro e sono stati veramente molto gentili e disponibili a voler iniziare una collaborazione con me, vi lascerò qui sotto nell'info box tutti i link di riferimento così se siete curiose potete andare a dare un'occhiatina, direi di iniziare subito con la prima azienda ed è l'istituto ecologico Edelweiss cosmetici e detergenti naturali con piante officinali da raccolta spontanea, ci tengo a ringraziare tantissimo il titolare che è il signor Mario che è stato molto gentile e disponibile a spiegarmi la filosofia dei loro prodotti, sono veramente molto molto interessanti e all'interno del pacchettino ho trovato questa lettera che sono stata veramente strafelice di leggere e poi il catalogo con all'interno i loro prodotti, hanno una linea per il viso, per il corpo e per la casa, sono veramente molto interessanti e vi faccio vedere i quattro prodotti che mi ha inviato, il primo è questo dentifricio naturale all'echisito da 50 ml, questi sono gli ingredienti, è la prima volta che provo un dentifricio naturale quindi sono molto curiosa e mi piace tantissimo il fatto della confezione che ha pompetta così si può dosare bene il prodotto senza spreco, poi il secondo prodotto è questo latte detergente per il viso alla calendola da 100 ml e questi sono gli ingredienti, sono molto belli anche i disegni sulle confezioni, poi questa lozione tonica viso al fiordaliso da 150 ml, questi sono gli ingredienti e questa che è una crema limitiva ristrutturante all'echilea e aloe da 100 ml, questi qui sono gli ingredienti, sono tutti cosmetici naturali, non vedo l'ora di iniziare a testarli e poi vi farò una bella recensione nello specifico. Poi la seconda azienda che mi ha inviato i prodottini è la Bioteco e ringrazio la signorina Marianna che è la titolare del sito, anche lei è stata veramente gentilissima e molto disponibile e mi ha fatto scegliere dal suo sito quattro prodotti e non vedo l'ora di utilizzarli e vi faccio vedere subito che cosa ho scelto. Ho scelto tre prodotti per i capelli e uno per le mani, iniziamo dai prodotti per capelli e ho voluto scegliere per provare della linea capelli grassi, lo shampoo antiforfora, ortica e rosmarino, officina natura cosmetica naturale, contiene 250 ml di prodotto con una scadenza di sei mesi e questi sono gli ingredienti, anche la Bioteco produce cosmetici naturali quindi con ingredienti buoni. Poi questa maschera, capelli al cocco della linea capelli, officina natura cosmetica naturale da 250 ml e questi sono gli ingredienti. Poi questo balsamo, ortica e rosmarino per capelli grassi della linea officina natura cosmetica natura cosmetica naturale da 250 ml con una scadenza di sei mesi e questi qui sono gli ingredienti. E poi l'ultimo prodottino è questa crema mani miele e limone della linea corpo officina natura e contiene 100 ml di prodotto e questi qui sono gli ingredienti. Non vedo l'ora di iniziare ad utilizzare questi prodotti così poi anche di questa azienda vi farò una bella ritenzione nello specifico. Bene, questi erano due pacchettini che ci tenevo a mostrarvi, fatemi sapere se avete sentito parlare di queste due aziende, se avete provato qualche prodotto che vi ho mostrato, scrivetemelo sotto nei commenti. Ringrazio ancora tantissimo i titolari delle due aziende in questione, quindi l'Istituto Ecologico Edelbeis e la Bioteco per avermi dato questa bellissima possibilità di poter testare i loro prodotti. Vi mando un grandissimo bacione, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato di compagnia e ci vediamo alla prossima. Ciao!